questo giubbetto per me dico subito un pochino più stretto però come mi piaceva così tantissimo proprio perché leggero controvento ottobre novembre si colore mi piace tanto c'è anche capuccio qui vedete qui c'è tasca nel qui vicino vicino mano si ecco molto molto leggero io presa e perché costava anche poco ora faccio vedere quanto costa ecco qui si vede bene ecco 50 5 per cento di sconto costava 149 e ora costa 170 euro no scusate 150 150 a 70 arrotondiamo e 55 per cento di sconto molto comodo molto di qualità come piace a me morbidissimo colore bello soffrio qui riesco chiudere ma ora non voglio chiudere e mi piace tanto così ora faccio vedere queste scarpe queste scarpe è vero a fare perché ultimo pezzo ultima misura la mia mi vergogno di dire ma 42 porto è comodissimi invernale costavano costavano 165 io ho pagato indovinate quanto 58 lei proposto 58 io ho detto se voi 50 non posso dare di più lei mi dato 50 euro 50 euro da 165 a 50 euro fate conto voi quanto quanti per cento ho pagato meno 100 aspetta 165 50 per cento già sarà 80 euro più o meno io ho pagato 50 allora più o meno sarà 70 per cento di sconto mamma mia questo poi grande qualità comodissimi mi spingono proprio io senza parole io ho mai avuto così mai avuto così scarpe questi questi per la città così per la città colore questo rimasto solo questo ultimo pezzo fine seri fine seri ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua sì sì caldi 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 anche qui belli caldi ecco qua 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 ecco